Cosa c'è dentro Sua Santità? Sua Santità ci spalanca le porte dei Sacri Palazzi. Per la prima volta abbiamo accesso a centinaia di documenti che svelano le criticità e i dossier che Benedetto XVI, o le più alte gerarchie del Vaticano, hanno affrontato negli ultimi anni. Sono documenti che raccontano di congiure, raccontano delle pressioni del Vaticano sull'isci, la tassa che poi ha toccato direttamente le tasche degli italiani, non a certi immobili della Chiesa, raccontano degli incontri del Papa e il Napolitano con i report che venivano dati al Santo Padre sulle leggi italiane da cambiare. Raccontano ma anche tante altre storie di ingerenza. Mi sembra che il contenuto di questo libro si potrebbe riassumere così. Il cardinal Tarcisio Bertone, segretario di Stato, si dovrebbe dimettere. Dietro il caso Boffo c'è lui, dietro il caso Liganò c'è lui, dietro le consultazioni con Tremonti per evitare allo Stato Vaticano e alla Chiesa Italiana il pagamento dell'ICI c'è lui, dietro la guerra con Tettamanzi c'è lui. La segreteria di Stato non esce sicuramente bene da questo libro, ma non per Knuzzi quello che scrive, ma perché ci sono tanti cardinali che scrivono a Santo Padre evidenziando mancanze, insufficienze, errori attribuiti a Bertone anche magari quando non è la colpa. Infatti abbiamo visto che la Santa Sede ha regito la pubblicazione del libro con anche un comunicato molto di attacco. Boffo ha parlato dell'altro Cio, hanno parlato di ricettazione. Noi ci siamo limitati in questo libro a pubblicare dei documenti che sono dei documenti conosciuti dalla stessa Santa Sede, assolutamente veri, autentici e questo è il nostro lavoro. Ma hai avuto paura? Beh certo, quando sei custode di certi documenti non vedi l'ora che finiscano, che siano patrimonio di tutti.